Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Buongiorno e buon inizio settimana dalla redazione di TV Molise. Prima di iniziare la nostra rassegna stampa, quest'oggi parliamo delle imminenti elezioni comunali a Venafro, la fase interlocutoria delle trattative sta infatti per concludersi, tra qualche giorno la definizione delle liste. Ancora incerto lo scenario tuttavia, ma alla fine, a sorpresa, le compagini in lista potrebbero essere solamente due. Ce ne parla Domenico Marzocchella. Si rivedranno tra qualche giorno, sarà un incontro allargato e servirà a misurare il peso specifico delle due compagini che potrebbero diventare una sola lista. Il riferimento è al confronto tra Luigi Viscione e Anna Ferreri. In vista delle comunali di Venafro, i due nomi sono tra i papabili per la candidatura a sindaco. Il primo faccia a faccia, quello a cui facciamo riferimento, c'è stato nel pomeriggio dello scorso sabato. Appurata la possibilità di convergenza sul programma, ora c'è da definire il passaggio cruciale. Chi guiderà la futuribile lista? Ne sapremo di più tra qualche giorno. Ora, l'aggettivo più adatto, che spiega la fase in cui si trovano tutti i competitor, è interlocutorio. Vale per Enzo Bianchi, l'ex sindaco starebbe cercando la sponda di personaggi politici di peso regionale. Intanto si susseguono gli incontri. Sul fronte dell'amministrazione uscente, ormai quasi certa la ricandidatura di Alfredo Ricci. A quanto pare, Ricci, tra gli altri, nella sua squadra, dovrà fare a meno di un giocatore importante. È dell'ultima ora la notizia del passo indietro di Dario Ottaviano. L'attuale assessore alla cultura avrebbe deciso di non ricandidarsi. D'altro canto, tra le new entry nella lista di Ricci e del vice Valvona, si dà per certa quella del giovane presidente di Città Nuova, Gianmarco Di Cicco. Dopo anni di attesa, ora è arrivato il suo turno. sta di fatto che, davvero, i prossimi saranno giorni cruciali per la definizione delle liste. Quattro, tre, in realtà alla fine dei giochi potrebbero essere solo due le compagini in lizza. Ne sapremo di più presto, anzi prestissimo. La deadline per la presentazione delle liste scade infatti tra 11 giorni. Iniziamo ora la lettura delle notizie delle ultime ore dal quotidiano online, il quotidiano del Molise. L'allarme rosso per l'Alto Molise, quindi senza medici di notte. L'ultimo allarme arriva proprio dalla postazione del 118 di Agnone, che resterà senza medici di notte, proprio nella settimana di Pasqua, quando arrivano migliaia di turisti. In alto Molise, Molise Oggi News, ancora la mala sanità, cade a pezzi l'ospedale di Sernia, lo vedete nella foto, la tensostruttura sgonfiatasi praticamente come un pallone. Andiamo ora sui quotidiani cartacei in formato digitale. Iniziamo da Nuovo Molise, il Molise di vino, la tentilia sul podio a Lione tra 6.256 vini da 47 paesi. La partecipazione al Vini Italy con 18 aziende produttrici. E poi ancora Iacovitti, mio padre, questa è l'intervista a Silvia, figlia del grande fumettista. Il ritratto inedito del papà molisano di Cocco Bill, ironico, divertente, dissacrante, artista di impareggiabile tecnica e curiosità. Soprattutto voglio raccontarvi, dice la figlia, la più grande storia di Jack, quella dell'amore durato mezzo secolo, tra lui e la moglie Floriana, corteggiata con 1.500 lettere e una rosa a settimana. Tutt'altra notizia, le avvoltoi della sanità e con le elezioni regionali L'ASREM assume 42 impiegati, le spoglie divise da napoletani e piemontesi, Alto Molise in coma. E poi il report, la regione degli sprechi, lo rileva uno studio della CGA di Mestre, estremamente preoccupante ancora, la storia raccontata dal libro di Mencarelli, Autismo, l'umanità non perduta in Molise. Andiamo a visitare alcune pagine interne, la regione degli sprechi, dicevamo, cattivo esempio anche con la spesa per servizi informatici, la maglia nera per la cattiva burocrazia tra gli enti europei. Come dicevamo, è quanto emerge da un'elaborazione della CGA di Mestre, a livello nazionale, fanno peggio solo Sardegna, Puglia, Sicilia, Basilicata, Campania e Calabria. La più virtuosa invece è la provincia autonoma di Trento. Andiamo sulla pagina successiva, gli avvoltoi della sanità, Alto Molise in coma, senza medici di notte, senza 118, lo abbiamo detto poc'anzi, e con le elezioni regionali, l'ASREM assume 42 impiegati, le spoglie divise da napoletani e piemontesi, e piemontesi, scusate, da brunese, appunto, a gollo. Intanto sta restando molto scalpore, generando accese discussioni, è appunto il caso del dottor Vigliardi, ex direttore dell'UOC di chirurgia dell'ospedale veneziale di Sernia, che da oggi, come tutti saprete, viene sostituito dal professor Schaudone. Andiamo ancora avanti, ci spostiamo sulla pagina 7, Gerri Calada, la Venier elogia la Mediterranea della Neuromed, il comico dice, ho avuto paura di morire, poi ancora la politica come lo struzzo, volpe a termoli sulla vicenda balneari. Lasciamo Nuovo Molise, ci spostiamo invece sull'altro quotidiano regionale, primo piano, con il centrodestra che punta a liste forti, avversari distratti dalla leadership, la coalizione di Lotito & Company interpreta al meglio la legge elettorale, ogni preferenza raccolta dagli aspiranti consiglieri va attribuita al candidato presidente, vince chi totalizza un voto in più, Gravina convince il campo largo, ma la lotta intestina nei 5 Stelle sta lasciando Federico con il cerino in mano. E poi ancora il 118 di Agnone, fino a venerdì senza medico durante la notte, dei quattro in servizio, due dovranno coprire i turni di Sernia, Saia quindi chiede un'idienza a Gollo, Paglione invoca la rivolta popolare. E poi al Veneziale, al netto di colpi di scena, oggi si insedia il reparto del professor Schaudone, Campobasso, gestione dei rifiuti, 2,3 milioni dal PNRR a Santa Croce, invece denunciata la scomparsa di un sessantenne, le ricerche sono in corso. Ancora in prima pagina, Termoli, cassiera licenziata nel 2015, la Cassazione dopo 8 anni dichiara illegittima la procedura, infine patologie gravi in aumento. Prima in Italia nasce in Molise la rete dei dottori Sentinella per l'ambiente, allo scopo di definire il profilo di rischio delle persone e delle comunità. Spostiamoci ora sulla pagina di Campobasso, raccolta differenziata, più di 2 milioni di euro per potenziare il servizio, sono tre i progetti finanziati con il PNRR, sarà risolto così il Repus Centro Murattiano, telecamere e cestini intelligenti in città. E poi il caso Scuola Ponte in Consiglio, all'ordine del giorno anche il plesso di Mascione, assise e convocata in seduta monotematica, straordinaria per domani mattina. Andiamo ora sulla pagina di Isernia, mancano medici a Isernia, arriva il 118 di Agnone, da domani al 7 aprile, e il servizio del caracciolo resta quindi sguarnito, i professionisti copriranno i turni infatti al Veneziale. In proposito Saia dice Sentirola di Gigollo, Paglione dice invece adesso basta. Intanto Sciaudone in chirurgia, professor Unimol è atteso appunto per oggi. Andiamo sulla pagina di Venafro, quattro liste, laboratorio 86079 punta su Viscione, colpì di scena a parte, in campo pure Bianchi, Ferreri e Luscente Ricci, trattative in corso nel tentativo di ridurre a due il numero dei pretendenti. Infine andiamo sulla pagina di Termoli, non ha abusato della 104, Cassiera vince in Cassazione, si conclude quindi dopo otto anni la vicenda di una donna licenziata da un centro commerciale adriatico. Sposiamoci ora invece sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, il Corriere della Sera che apre con la stretta sui permessi, parliamo naturalmente dei migranti, le scelte di Palazzo Chigi in nove punti, dai rimpatri ai centri di accoglienza, domani il vertice, a proposito del reddito, l'attacco di Lollobrigida, non è svilente lavorare la terra, ma stare sul divano. E poi l'attentato in un bar a San Pietroburgo, ucciso blogger russo, il piano di Kiev per la Crimea. E poi la vittoria dei rossoneri alla Maradona, Mila da Champions, travolto il Napoli, i rossoneri vincono 4 a 0, e ora la sfida internazionale. Andiamo a vedere qual è il titolo d'apertura della Repubblica, corsa contro il tempo, il piano del governo, i progetti in ritardo trasferiti su altre voci di spesa europea, Repower dell'Unione Europea, fondi di coesione e strutturali, entro fine aprile la revisione del recovery in Parlamento, Mattarella ha ricevuto Draghi prima dell'incontro con Meloni. Lolo Brigida poi sul reddito, vada nei campi, chi sta sul divano in alto, colpo alla Wonger, pre-zoning per del guerriero cyber, una statuetta esplosiva, uccide il blogger Tatarsky nel bar sede della guerra ibrida al soldo di Mosca. Bene, andiamo a vedere qual è l'apertura questa mattina, scusate, andiamo a vedere quali sono appunto i titoli delle altre prime pagine, iniziamo in questo caso dal Fatto Quotidiano, arriva la legge Spazza Onesti, condannati nascosti nelle liste, schiforme, scrive il Fatto Quotidiano contro la Bonafede, niente casellario giudiziario quindi per i candidati. In alto Confindustria, le mani sul PNRR e quei lavori che saranno cancellati, il governo lo rivede, sull'energia e i fondi alle imprese. Andiamo ora sul Sole 24 Ore, anti-riciclaggio, focus quindi sui professionisti, questo è il piano espettivo, sotto la lente della Guardia di Finanza, gli atti per operazioni societarie anche legati ai fondi del PNRR. Poi l'occupazione, lavoro, stranieri a livelli pre-Covid, flussi, pressing per altri ingressi. L'apertura del mattino, invece sulle tasse, bonus per gli onesti, il viceministro Leo, patto con il fisco, che in regola pagherà meno e attireremo investitori. E poi energia solare in Sicilia, schifani, stop se non resta sull'isola, uso dice il bicombustibile, e green, poi ancora la bomba in un locale di San Pietroburgo, ucciso blogger amico di Putin. In alto l'allarme rosso-nero, leao dominatore, poker Milan al Maradona in Napoli, conserva 16 punti sulla Lazio. Andiamo ora sulla stampa, Mattarella Draghi, vertice sul PNRR, il colloquio sui ritardi prima del consulto della Premier Alquilinale, taglio dei progetti nel nuovo decreto, la Corte dei Conti, con il cambio di governanza, si rischia di perdere altro tempo, ponte sullo stretto, i nodi del progetto. E poi io, il mio Tommy, e gli altri cervelli ribelli, lo vedete nella foto, sono uno di voi, la giornata dell'autismo, Mattarella incontra i ragazzi, del Pizza Out. E' ancora ucciso il blogger ultra di Putin, Boba in un bar di San Pietroburgo, l'attentato, con una statuetta esplosiva. Voltiamo ancora a schermata, spostiamoci su il giornale, braccia rubate all'agricoltura, la stoccata di Lolo Brigida, il ministro di Vinitali, meglio lavorare nei campi, che stare sul divano, con il reddito di cittadinanza. in alto, la finta unità del PD, migranti e gay, tutte le divisioni, questi guai dell'ashline, Sala fa già il leader, Ellie è brava, dice, ma il problema è chi l'aiuta. E poi ancora l'attentato al Barrus, ucciso blogger militare, bomba a San Pietroburgo. Ci spostiamo ora su il libero, bassa reddito di cittadinanza, meglio nei campi che sul divano, il ministro Lolo Brigida, lavorare nell'agricoltura non è svilente, l'economista Brambilla, per i sussidi abbiamo il record di sfaticati, Zaia dice, i soldi del PNRR, chi non li sa usare, li dia a noi. E poi il piano del governo per la sanità pubblica, svuoto e pronto soccorso, e accorcio le liste d'attesa, il ministro Schillacci, mail a tutti con le visite, da fare a 1350 case e comunità, per evitare le code in ospedale. E poi le proiezioni, centrodestra in testa, Sanna Marin solo terza, che doccia finlandese per la sinistra. Andiamo infine sulla Gazzetta dello Sport, come dicevamo, Milan da campioni, la clamorosa vittoria con il 4-0 a Napoli, ora la Champions, Super Leal, Magico Diaz, Tonali, Unico e Rossoneri, avvisano la capolista in vista dei quarti. Intanto è lite tra Maldini e Spalletti. Bene, con questa segnalazione termina la nostra rassegna. Nel salutarvi, vi rimando come sempre al prossimo appuntamento in diretta, quello delle 14, con le notizie del nostro telegiornale. Intanto a tutti voi, l'augurio di una buona giornata. Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli, Radio Surgery Center di Agropoli. Il meteo è offerto da Casa di cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Previsioni per oggi lunedì 3 aprile. Sulla nostra regione il tempo sarà contrassegnato da generale instabilità, atteso ulteriore peggioramento dalla sera, con pioggia e neve oltre gli 800 metri di quota nella notte. Venti forti dai quadranti nord-orientali, mare agitato. Temperature, Campobasso minima 4, massima 10, Isernia minima 6, massima 14, Termoli minima 10, massima 13, Benafro minima 7, massima 16. Previsioni per domani, martedì 4 aprile. È atteso un generale miglioramento nel corso della giornata. Residui fenomeni potranno tuttavia insistere sui settori orientali in mattinata, con quota neve che si attesterà intorno ai 700 metri. Venti forti dai quadranti settentrionali, mare agitato. Temperature, Campobasso minima 1, massima 6, Isernia minima 3, massima 10, Termoli minima 7, massima 9, Benafro minima 4, massima 13. Benvenuti all'oroscope di oggi lunedì 3 aprile. Ariete, il cielo di oggi è molto interessante per incontrare nuove persone che potrebbero diventare speciali. Sul lavoro attenzione a qualche ritardo, ma il peggio è ormai passato. Toro, oggi le stelle parlano d'amore e di desideri avverati. Per quanto riguarda il lavoro, questa giornata promette bene anche se c'è ancora un po' di stress accumulato. Gemelli, oggi torna la voglia di dedicare più tempo al partner che avevate un po' trascurato. Sul lavoro, se siete dipendenti e non siete soddisfatti, iniziate a guardarvi intorno per cambiare. Cancro, state attenti a qualche piccolo contrasto d'opinione in famiglia. Sul lavoro manca un po' di soddisfazione, ma arriveranno nuove proposte. Leone, datevi da fare perché oggi l'amore vi sorriderà. Se lavorate da autonomi, questo è il momento giusto per fare di più. Vergine, oggi bisognerebbe mantenere l'agitazione sotto controllo per non rovinare l'atmosfera in amore. Sul lavoro concludete tutto in mattinata perché poi nel pomeriggio diventerete un po' svogliati. Bilancia, questa è una bellissima giornata per vivere al massimo le emozioni d'amore. Per quanto riguarda il lavoro sarebbe meglio cogliere al volo tutte le novità. Scorpione, potrebbero esserci ritorni di fiamma in questi giorni. Sul lavoro, se state aspettando delle risposte, presto arriveranno. Sagittario, attenzione alle relazioni difficili perché potrebbero causare qualche problema oggi. Sul lavoro arrivano discussioni di sapori con i colleghi, mantenete la calma il più possibile. Capricorno, in questo periodo della vostra vita sembra sia difficile trovare l'amore o dedicargli del tempo. Sul lavoro invece non sottovalutatevi. Acquario, in amore arriva una giornata un po' pensierosa, quindi fate attenzione. Per quanto riguarda il lavoro tutto precede al meglio, quindi continuate così. Pesci, attenzione a qualche piccola incertezza in amore. Per quanto riguarda il lavoro invece nei prossimi giorni state attenti agli investimenti.